Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Crysis 2 Allora, spero siate pronti per finire questo gioco Per vedere la fine, perché ho controllato e siamo all'ultima missione Se non mi sbaglio, dalle ceneri era... Era già stata fatta, sì sì sì, era già stata fatta, me la ricordo Quindi siamo all'ultima missione, che si chiama Una passeggiata Anche se non sarà una passeggiata, ve lo assicuro Facciamo sempre il livello di difficoltà soldato, cominciamo E così finiamo il nostro primo gameplay di un gioco sul mio canale Sono un po' emozionato Ah sì, adesso con l'elicottero ci stavamo dirigendo verso questa specie di isola Che si era alzata in mezzo a Central Park Poi si vedeva tutto meglio nello scorso video Eh, infatti siamo sull'elicottero Mamma mia Guardate che riprese, sono davvero fantastiche Eh, questi tentacoli sono dei tentacoli alieni che sorreggono questa isola Vedete là, c'è la città Vedete che noi siamo sopra la città Perché... L'isola si è alzata A Culeo si 651, 655 metri Ah sì, la bomba atomica Perché il governo degli Stati Uniti aveva deciso di Porre fine al problema degli alieni sganciando una bomba nucleare su... Su New York E uccidere tutti, sia civili che... Che alieni Ah, mi sganciate così? Vabbè Meglio a te che a me Va a cagare, scusa Ok Siamo... Siamo arrivati Che arma è questa? Perché ho quest'arma? Non voglio avere quest'arma Non mi piace quest'arma Ah, però questa sì Sì Vabbè, il fucile a pompa mi va bene E mo' dove devo andare? No Ehm Direi di no Ehm Sì, direi proprio di no Ehm Non è quella la st... Ah, è questo Ah Ah, guardate la fontanella che bella Posso usarla Ciao Bellina Vabbè Basta fare cagate È l'ultima missione Sarà una missione seria Devo andare lì? Eh, lo so che è instabile Ci sono sopra Uh, uh, guardate questo taxi Pronti? 3 2 1 Boom Attenti là sotto Sta cadendo un taxi Boom Oh mio dio Mio figlio è morto No, no, no Scusa, scusa Non volevo Ehm Non è stata colpa mia Ehm Mi sono solo appoggiato E è caduto Ehm Non volevo È colpa degli alieni Mettiamola così Li sento Ah, ecco infatti Sono qui Oddio Oddio Mi hanno già visto? Mi hanno visto? Sì, direi di sì Sì, mi hanno visto E hanno anche chiamato rinforzi E vai Non so come abbiano fatto a vedermi, eh Ok, vabbè Questi due sono andati Questo pure Ok E siamo a 3 Opzioni tattiche Va bene Oh, guardiamo Tendi un'imboscata Usa la torretta A gira Vediamo un po' i nemici Allora, i triangolini girati Sono i nemici, eh Eh, sì Ce ne sono un bel po' Anche perché l'ho visto Che c'è uno di quei bestioni giganti Vabbè Usciamo in modalità furtiva Qua ho visto che ci sono Uh, C4 Munizioni Grazie Granate Uh, lanciamissi Eh, qui Tutto ciò che ho sempre Oh, finalmente Tutto ciò che ho sempre desiderato Eh, mettiamo via quest'arma Maledettissima E prendiamo uno di questi Ah, però Usciamo da qua Ok Silenziatore Sì, mi va bene Il fucile a pompa leggero Mmm, no Perché tanto il fucile a pompa Ce l'abbiamo già Punto rosso Sì, va bene Ora controlliamo un po' da qua Se vediamo qualche... Uh, qualche preda Tipo questo che È uno di quelli che ha la corazza Quindi questi sono potenti Ok Questo è andato Uh Altro C4 Prendiamolo tutto Ah, no Non possiamo perché Siamo già arrivati al limite Questo appena scende Sì Zacchete Poi controlliamo un po' Eh, se qua dietro ne è rimasto qualcuno Là sì, ce n'è uno Allora andiamo a uccidere quello Maledizione si era accorto di noi Non so come, eh Anche questo Eh, dite che anche gli altri si sono accorti Eh, sì Sì Sì, sì, sì Si sono accorti Eh, sì, infatti Wow Ehi Muori Guardate come L'erba rampicante riesce a distruggere i colpi nemici I razzi Qui ti ha Uh Ok, quel missile non me lo sarei aspettato, eh Bam 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 Prendi questi Bam E due E un colpo di questo E un colpo di questo E un po' di questo E anche di questo Sei stanco, eh Anche tu sei stanco, infatti Ok, questo è andato Là c'è un altro di questi Però qui Ci sono delle munizioni Bam 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 Sì Ok, morto Basta? No Basta una mazza Aia Che è stato? Ah Urca ma arrivano Dappertutto Merda 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 Mettiamoci un po' qua dietro Ok, se avessi un fucile a precisione Sarebbe Meglio, eh Però visto che non ce l'abbiamo Ci dobbiamo accontentare di questo Oddio, lì c'è un colpo Che... Cos'è quello? Non lo so Ve lo state chiedendo anche voi Ma non lo so Ehm, non l'avevo mai notato in Crisis Ehm... Ehm... Ah sì, non lo so, vabbè Usiamo un po' di questo Ha funzionato Usiamo anche un po' di questo Ha funzionato anche questo Abbiamo solo più un colpo Bam Ehm... Ha funzionato pure questo Sono contento Ok Eppure questo è andato Adesso ricarichiamo anche questa che... Non ha molte munizioni Ta 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 Ok Là ci son delle munizioni Andiamola a prenderle No, eh... Non ce ne sono più purtroppo E allora qui andremo di astuzia Come solo noi sappiamo fare E uno E due E boom Non basta E uno E due E boom E boom Ok Ha funzionato Ah si Eh vai Qua ci sono delle munizioni Dentro il container E' probabile che ce ne siano alcune Ok Qui è finito Quindi Ah no qua ci sono delle altre munizioni Ah anche delle granate Andiamo Uh Due belle prede E una E anche l'altra No Ah si ok Tacca E' morta pure questa Ok Adesso La culo è sempre più vicino Vedete Laggiù Andiamo qua Uh Lancia missili Meno male Questo è morto E non ci serve a niente Vediamo Quegli obiettivi Quegli obiettivi Non mi servono Questo Non mi serve E quelle Non lo so E' una bella domanda Uh Uh Ci sono delle armi Andiamo a vedere Ah Fucile a precisione Mmm No direi di no Perché Va bene così Direi che va bene così Ah ecco Lì c'è un nemico Ah guardate là quanti Cerchiamo di non farci notare Non subito almeno Ok Uno è andato Adesso andiamo di là Guardiamo un po' quanti nemici ci sono Allora Là ce n'è uno Laggiù un altro Ah Quello l'ami Ur canane Sono arrivati degli altri Qua ce n'è uno Uno di quelli potenti Mmm Cosa possiamo fare con questo L'uccisione furtiva non c'è Però abbiamo il C4 Possiamo provare a farlo saltare in aria Oppure proviamo Proviamo prima a uccidere questo Se scendesse però No infatti Niente Prendiamolo un po' ammazzate come capita E l'abbiamo ucciso Non so come Maledizione Non mi puoi raggiungere qua con i tuoi colpi Credo Spero Ma io posso con questo Bam L'ha sentito Bam L'ha sentito anche questo Bam Pure questo l'ha sentito Ah è morto Ok Questo è andato Adesso prima che arrivino gli altri Nascondiamoci Magari non ci vedono No ci vedono Purtroppo Le mie strategie non hanno funzionato Maledizione Ok Vediamo lava C'è il primo obiettivo Qua no Ma c'è il primo obiettivo Mi hanno sparato da dietro Che cosa Ui Con calma eh Aia Mamma mia Che potenza di fuoco Che aveva quello là Ancora Ancora da dietro Ah quello là Non muore mai più Quello là Eh va Non ho neanche più munizioni Vabbè Andiamo con questo Che ci volete fare No Tac tac Ok Pure questo è andato Adesso con un bel salto No non arriviamo fino là Però forse da qui si Si infatti Ok